Quando diciamo che un'opera creativa è in pubblico dominio, stiamo dicendo che nessun diritto è riservato, come faccio vedere in questa parte alta dello schema. E quindi l'utilizzo è libero, senza condizioni. Un'opera in pubblico dominio è un'opera di cui, ad esempio, i diritti d'autore sono scaduti da più di 70 anni dalla morte dell'autore e anche non ci sono altri diritti connessi sull'opera. E quindi, in quel caso, gli utilizzatori possono utilizzare l'opera liberamente, senza doversi preoccupare di chiedere permessi a qualcuno. Però, andando ad un livello di dettaglio maggiore, vediamo che le opere possono essere in pubblico dominio secondo, diciamo, tre forme, tre manifestazioni diverse del pubblico dominio. Il pubblico dominio di cui abbiamo parlato fino adesso è il caso B, cioè quando scadono tutti i diritti di privativa su di essa. Attenzione perché quando dico scadono tutti i diritti, intendo tutti i diritti. E lo sottolineo perché non sempre è facile sapere quali sono i diritti che insistono su un'opera. In caso di opere letterarie di autori molto famosi, basta andare a verificare quando è morto l'autore e sappiamo se sono o meno passati i 70 anni. Ma in opere più complesse, come le opere cinematografiche o altre opere a cui hanno partecipato tanti autori, non è sempre facile arrivare a definire quando l'opera è caduta in pubblico dominio. Il caso del diario di Anna Frank è abbastanza emblematico. Andate a cercare un po' di informazioni, è successo che nel 2016 si pensava che il diario di Anna Frank fosse caduto in pubblico dominio, essendo lei morta nel 1945, ma poi è emerso che il diario di Anna Frank, che noi conosciamo come romanzo, ha come coautore il padre di Anna Frank, il quale è morto molti anni dopo. Quindi anche in quel caso l'opera non era davvero caduta in pubblico dominio. Gli altri due casi, il caso A e il caso C, adesso li vediamo brevemente, il caso A appunto dice che il pubblico dominio si verifica anche quando è stabilito espressamente dalla legge. io lo chiamo Public Domain by Law, cioè pubblico dominio per legge. Nella legge italiana abbiamo un unico caso che è quello dell'articolo 5, che dice che i testi degli atti ufficiali delle pubbliche amministrazioni dello Stato non sono sotto diritto d'autore. Gli americani hanno una norma ben più ampia, nell'ordinamento statunitense è stabilito che tutto ciò che è prodotto dal governo federale o da un dipendente del governo federale nelle sue mansioni è automaticamente fin dall'inizio in pubblico dominio. E infine c'è il caso C, che io chiamo pubblico dominio artificiale, cioè un pubblico dominio che viene creato anche quando il titolare di diritti è ancora in vita e quindi in teoria sarebbero ancora pienamente esercitabili, però è lui stesso l'autore a scegliere di rilasciare l'opera in pubblico dominio prima che lui sia morto da più di 70 anni. E quindi lo si fa ad esempio con uno di questi strumenti, Creative Commons ha creato il CC0, cioè un disclaimer, un'avvertenza che si mette sotto un'opera per dire che da quel momento l'opera è da considerare in pubblico dominio. Ok, quindi questi sono i tre casi in cui possiamo trovare il pubblico dominio.